Ciao ragazzi, io sono Luca e questo è Dream Corner, lo show in cui ogni settimana parliamo di come preparare, migliorare e servire i nostri drink. Oggi, Stinger! Oggi prepareremo un classico, lo Stinger. Lo Stinger è un drink che va servito in una coppetta a martini. Coppetta a martini che andremo a raffreddare come al solito con qualche cubetto di ghiaccio. E con dell'acqua. Riponiamo in modo tale che non ci dia fastidio. La tecnica che utilizzeremo per prepararlo è quella dello Steer & Strain, la stessa che abbiamo utilizzato per il manata. Quindi ci servirà un Boston, un Eyeball e un Bar Spoon. L'occorrente per prepararlo è il seguente. Cognac, liquore alla menta e qualche foglia di menta per decorarlo. Ora, la tecnica dello Steer & Strain prevede di riempire il nostro Eyeball di ghiaccio fino all'orlo. In questa maniera. Così. Vi andremo a versare al suo interno gli ingredienti. Partendo dal Cognac in una quantità di un 11 e 3 quarti, quindi un Bubble Set. In questa maniera. Bubble, two, three, four, five, six, set. Dopodiché verseremo il liquore alla menta in una quantità di 3 quarti d'orce, quindi un Bubble 3. In questo modo. Bubble, two, three. Fatto questo, prenderemo il nostro Bar Spoon e andremo a mescolare delicatamente il tutto. Quanto basta. Perfetto. Riponiamo il nostro Bar Spoon, prendiamo il nostro Bosto, chiudiamo l'Aibo. Delicatamente giriamo il tutto in modo tale che il contenuto non si agiti. Riapriamo il Bosto. Prendiamo velocemente la coppetta Martini. E la priviamo del suo contenuto. Così. Riprendiamo il nostro Shaker, il nostro Bosto. E ora, stando attenti a non fare cadere il ghiaccio, versiamo il dente all'interno della coppetta Martini raffreddata. In questa maniera. Dopodiché, prendiamo ora un sale di menta, mettiamola nella coppetta. Perfetto. Il nostro Stinger è pronto. Anche per oggi, Drink Corner è finito. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale YouTube e seguici anche su Facebook o Twitter. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi sapere la storia del nostro drink odierno, puoi andare sul nostro sito internet, drinkcorner.it. Se vuoi che il tuo faccione appaia nelle prossime puntate di Drink Corner, mandaci una foto dei tuoi brindisi. Io sono Luca e questo è il Drink Corner. Ci rivediamo giovedì alle 18. Grazie a tutti.